Ciao, sono Clara Sutton, ho 25 anni e vivo a Milano. La mia famiglia è metà italiana, metà neozelandese, quindi sono bilingue, ma sono cresciuta in Italia, qui a Milano, dove ho cominciato a studiare recitazione. Mi sono formata come attrice teatrale, poi attraverso seminari ho scoperto il mondo del cinema e me ne sono innamorata. Le mie altre grandi passioni, oltre alla recitazione, sono il disegno, la scrittura di qualunque cosa, dalla poesia ai testi teatrali, e la fotografia. Sto ancora approfondendo il teatro danza e il canto. Ho studiato filosofia all'università e ho lavorato in una scuola elementare come insegnante di sostegno e come insegnante di teatro per bambini. Questi sono i miei profili. Grazie e ci vediamo presto.